Ancora insieme ve lo dicevo, oggi è la giornata nazionale dell'Italia contro il bullismo, il cyberbullismo, un problema fortissimo per i nostri ragazzi, il 50% lo subisce, stiamo parlando di ragazzi adolescenti, in grandissima parte, una fortissima percentuale lo subisce attraverso quelli che sono gli strumenti dei nostri ragazzi di oggi, il telefonino, il computer, il web e tutto il social network, tutto quello che c'è, sappiamo tante brutte storie di cronaca, un invito alla lotta comune che è quella che abbiamo scelto per la nostra copertina, una lotta comune che per adesso è iniziata, è iniziata con forza in Parlamento, è iniziata nella società civile attraverso gli esperti, chi si occupa di ragazzi, chi si occupa di questi problemi e che in questi giorni coinvolge anche Mediaset, perché Mediaset ha deciso con una serie di spot di sostenere questa causa di cui sentirete parlare per tutto questo fine settimana, cominciamo con un servizio. Il 59% delle vittime di cyberbullismo ha pensato a suicidio. Le tue parole possono avere conseguenze irreparabili. Pensa prima di scrivere. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo parte una nuova campagna di sensibilizzazione sociale ideata da Mediaset su tutte le piattaforme del gruppo per attirare l'attenzione su questo fenomeno che può avere conseguenze devastanti. Oltre una vittima di bullismo su due, secondo l'osservatorio nazionale dell'adolescenza, ha pensato di togliersi la vita. Il cyberbullismo, secondo i dati Istat, colpisce il 7% dei bambini tra 11 e 13 anni e il 5,2% degli adolescenti tra 14 e 17 anni. La vittima del bullo tradizionale tornava a casa, aveva riparo. Nelle mura domestiche si interrompeva quella spirale di violenza. Nel cyberbullismo la vittima non trova mai pace. Mediaset l'anno scorso ha iniziato una serie di campagne che sono tutte raccolte in un claim che è Mediaset a cuore futuro, proprio per mettere a disposizione del sociale la forza di impatto comunicativa che una Mediaset può avere con i vari mezzi. Quest'anno la prima campagna riguarda il cyberbullismo, che è un fenomeno che veramente ha degli impatti devastanti sulle persone che ne sono vittima. I nostri ospiti, l'avete vista anche nel servizio e qua con noi negli studi di Colonio Monzese, lì c'è Ronzulli che è Vice Presidente del gruppo di senatori di Forza Italia, ma è Presidente della Commissione Bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza che tanto ha lavorato su questo tema. Accanto a lei, lo avete visto, abbiamo invece il professore Luca Bernardo, direttore della Casa Pediatrica, fate bene i fratelli di Milano e grandissimo esperto della materia perché noi abbiamo messo uno dei suoi titoli, ma lei lavora veramente in questo campo su tantissimi fronti. Senatrice, mi permetta di parlare prima con il professore perché io vorrei subito un commento ai numeri che abbiamo visto, perché se ancora qualcuno ha dei dubbi sull'importanza di questa lotta comune, basta leggerli e i dubbi devono passare subito. Sì, direi che ci troviamo dei numeri impressionanti, così impressionanti che oggi addirittura si è abbassato ulteriormente l'età. Se immaginiamo, si parla prima di 11 anni, il cyberbullismo oggi inizia addirittura a 9 anni, nel momento in cui hanno in mano uno smartphone con questa schedina che ricordiamo i genitori ne sono responsabili, qualsiasi cosa quei ragazzi o quelle ragazze facciano e addirittura il bullismo si parla di 6-7 anni, parliamo quindi della primaria, quindi ragazzi nel momento in cui si struttura il concetto di classe, si struttura anche quello di vittima e di bullo. Il ruolo del genitore, fondamentale, fondamentale sia per riuscire a entrare nel mondo digitale che come genitori non ci appartiene, come generazione non ci appartiene, ma fondamentale anche, non lo so, nell'esempio sociale, perché il bullismo da cosa nasce? Il bullismo nasce dall'aggregazione di bambini e ragazzi che decidono volontariamente di aggredire un altro bambino, un altro ragazzo, di aggredirlo verbalmente, psicologicamente, fisicamente o attraverso la rete, quindi mettendolo doppiamente alla berlina attraverso quei laghi che rendono popolare il bullo, ma isolano assolutamente la vittima, dall'altra parte le famiglie. Spesso mi sento dire, ma in fondo noi siamo amici dei nostri figli, ebbene questa cosa non può essere, i genitori devono riprendere quel ruolo genitoriale, fondamentale e importante, con insieme la scuola, con insieme quella rete di cui sempre parla la senatrice Ronzulli, non può esserci nessun contrasto se non siamo in rete e nessun contrasto se i social non diventano ancora responsabili e responsabili di quello che viene postato e dall'altra parte in ultimo non si può immaginare che si faccia da soli, non si può immaginare soprattutto che non tecnici anche con uno slancio positivo possano occuparsi di questi temi che sono così cari a noi, ma attenzionati e pericolosi a trattare di cui non sanno nulla e quindi portano più danno che favore. Senatrice l'ho vista annuire alle parole del professore, lei ha lavorato tantissimo, lo dicevo prima, la commissione bicamerale è preseduta, avete preparato un lavoro, un'indagine conoscitiva, adesso l'ha anche portata al Presidente del Consiglio in queste ultime ore, ha ottenuto anche dei risultati concreti e sto parlando di soldi, di legge di bilancio, ci racconti un po'. Sì, il lavoro che ha fatto la commissione infanzia ha portato almeno una luce in questo tunnel del bullismo e del cyberbullismo, nella legge di bilancio siamo riusciti ad ottenere 3 milioni per la formazione dei docenti, perché come ricordava non sono pochi, è comunque una goccia del mare, ma vogliamo sottolineare come la formazione, appunto come diceva il Professor Bernardo prima, è importante, la formazione dei docenti è importante perché c'è un gap generazionale importante tra genitori e figli, tra una generazione che ormai è iperconnessa, addirittura pensate che il 22% dei bambini ha addirittura 5 device, non basta più soltanto un cellulare, hanno un cellulare, un computer, un tablet, una console, un pc da casa e addirittura il 40% di questi bambini che ormai vive in un mondo virtuale non più reale, il 40% ha l'ansia da connessione, cioè se non sono connessi vanno in ansia e tolgono addirittura ore di sonno, i 3 milioni per la formazione dei docenti sono importantissimi perché i docenti, la scuola quindi è la seconda agenzia educativa, i primi come abbiamo ricordato sono i genitori e la famiglia, importante dovrà essere la famiglia e quindi tornare ad essere centrale, ma come sappiamo i genitori lavorano e i bambini stanno più a scuola che con i genitori. Gli insegnanti si devono accorgere meglio e prima di alcuni evidentemente disagi che i ragazzi mostrano e per accorgersene si devono formare, perché io vedo per esempio, faccio sempre l'esempio di mio papà con la mia bambina, mio papà è un uomo molto attivo ma ha 75 anni, non sa come funziona un cellulare e se qualcuno non glielo insegna non riesce a essere una sentinella. E fra l'altro formare gli insegnanti si riesce a fare, formare i genitori è ben più difficile, qui c'è un gap di linguaggio che è molto faticoso, mi sembra di capire, da riempire, perché anche il genitore presente, dicono i numeri, controlla, controlla, non ci stare di più, lascia stare quel telefono, però non controlla il contenuto, non riesce a entrare nei contenuti. Ma diciamo che i ragazzi ormai sono diventati talmente esperti, noi parliamo di generazione Z, cioè di millennials, addirittura vengono chiamati bambini touch, cioè imparano ancora prima che parlare a utilizzare il tablet, quindi è ovvio che il linguaggio è molto diverso, è più veloce innanzitutto e un genitore fa fatica, hanno addirittura imparato a bypassare quelli che possono essere i filtri che un genitore mette o gli ostacoli, io ho chiesto a mia figlia Vittoria di non mettere TikTok su un tablet che le ho prestato per guardare i film, TikTok è abolito in casa nostra e una sua compagna di classe gli ha detto guarda ti insegno io, basta mettere un nome finto con un'età finta, abbiamo anche dei ragazzi che sono precocemente informati, la cosa che dobbiamo fare è insegnare a questi ragazzi la consapevolezza e l'identità digitale, come diceva il professore prima, ha ragione, questo lavoro noi non potremo mai farlo, noi legislatori non lo possiamo fare da soli, il genitore da solo non lo può fare, la scuola da sola non la può fare, abbiamo bisogno degli esperti, delle persone che vedono tutti i giorni queste problematiche, che poi vedono anche le patologie che queste problematiche scaturiscono, deve essere un lavoro di rete tra istituzioni, professori, esperti del settore, tecnici, quindi un lavoro di squadra, senza lavoro di squadra non credo che si potrà fare. Ecco, ecco e su questo professore, anche perché i ragazzi hanno sempre trasgredito, ogni epoca ha portato alla trasgressione, quanto è pericolosa questa trasgressione qua, quanto è pericolosa appunto, è come se fossimo agli albori di un'epoca per loro, per i genitori, per gli insegnanti. Sì assolutamente, loro si trovano dentro questa rete che non è sicura, dentro questa rete che è estremamente pericolosa, perché dentro non sappiamo ci sono i ragazzi, ma c'è tanto altro, ricordiamo e spesso non vengono così ricordati il dark web, dove si rimbalzano almeno 3 volte in giro per il mondo e hanno la possibilità di collegarsi a siti che dalla ventina di droga alla ventina di fotografie pedopornografiche e tant'altro, i nostri ragazzi sono in grado, i nostri genitori no, quindi sicuramente bisogna far sì con la formazione, che è anche prevenzione, che imparino a navigare, perché i genitori non sono in grado di stare lì dietro, dice giustamente la senatrice, non può essere che una singola istituzione se ne occupi, deve essere una rete, se noi la rete non l'abbiamo, noi non riusciamo a contrastare il fenomeno e è tanto vero che i numeri continuano a aumentare. Adesso senatrice, voglio parlare con lei di politica, però prima voglio dire una cosa, ci sono storie in questi paesi che non possiamo dimenticare, che dovrebbero aiutare genitori, ragazzi, certo non a 9 anni, mi rendo perfettamente conto a non dimenticarsi il lavoro che la senatrice insieme a altri parlamentari ha fatto, l'ha voluto dedicare a Carolina, Carolina Picchio che nel 2013 si è buttata dalla finestra per la vergogna, per il sentirsi perseguitata da Bulli, semplici compagni, niente di più che avevano preso foto, suoi filmati intimi che lei ingenuamente aveva messo in rete e li avevano pubblicati, da allora il suo papà è dentro a questa battaglia, ascoltiamo. Non capivo il motivo per cui mia figlia, una ragazza vincente, una bella ragazza che aveva la gioia di vivere, si fosse toglie tutta la vita. Aveva 14 anni Carolina Picchio quando il 5 gennaio 2013 si lanciò nel vuoto dalla sua casa di Novara. Purtroppo è stata la prima vittima acclarata di cyberbullismo. Il peso della vergogna per lei era diventato insostenibile. Nel momento in cui la gente ha visto il video ed è stata lei bersagliata da una serie infinita di insulti, non ha retto allo sconforto. Ora una fondazione porta il suo nome. A volerla è stato il papà promotore di una campagna di sensibilizzazione, perché a volte, come diceva Carolina, le parole fanno più male delle botte. Perché ora è tempo, è necessario che gli adulti alzino gli occhi dagli schermi e guardino in faccia i ragazzi, perché i ragazzi ci stanno chiedendo di aiutarli, perché soffrono. Forse è Carolina stessa che mi ha dato la forza di reagire e fare di questo dolore un qualche cosa che servisse agli altri ragazzi. Se lei potesse dare un consiglio ai genitori cosa direbbe? Abbracciate i vostri figli, siate partecipi e condividete. Il contrario di virtuale non è reale, è fisico, perché nel dolore non c'è niente di virtuale. Questo è importante, che lo capiscono. Quanto speriamo che in questi 7 anni qualcosa sia davvero cambiato. Senatrice, noi abbiamo fatto questa copertina sulla lotta comune, la sensazione è stata che il Parlamento l'avesse colto, ma tutto quello che avete fatto sta andando avanti, è davvero così? Si è capito quanto è importante che non ci siano bandiere in questa vicenda? Ha proprio ragione, non ci devono essere né bandiere né colore politico, dicevamo durante il servizio del papà di Carolina. Purtroppo, devo dire purtroppo no, nel senso, in commissione infanzia avevamo trovato una linea che era il bene supremo del minore e quindi sono stata molto felice di aver approvato questa relazione totalmente all'unanimità. Hanno firmato tutti, hanno votato tutti, senza distinzione di partito politico, come deve essere, messi da parte quegli ideali politici che contraddistinguono un partito da un altro. Questa relazione è adesso è stata, come dicevo, donata alle Camere e c'è al momento una legge, una proposta di legge che è passata alla Camera, che andrà a modificare la legge che è in vigore adesso sul cyberbullismo che è stata proprio dedicata a Carolina Picchio, passata alla Camera con l'assenzione di alcuni gruppi politici proprio perché non si è trovata una quadra. La proposta di legge è una buona proposta di legge, dove addirittura c'è un numero verde e noi lo chiedevamo da tanto, nella relazione l'avevamo messo, perché abbiamo visto che i ragazzi si sentono soli, non sanno dove andare, a chi raccontarlo, provano vergogna anche nel raccontarlo al genitore e quindi magari un numero verde dove trovare una sorta di protezione, c'è. Ci sono altre cose buone in questa legge, la cosa che a mio avviso non va assolutamente e farò di tutto affinché il Senato possa essere modificata e che noi abbiamo scoperto da questa relazione che il bullismo e il cyberbullismo si può contrastare con la prevenzione, che è una buona fetta della torta, con la protezione e infine, è proprio l'ultima spiaggia con la punizione, perché se si arriva a punire un ragazzo vuole dire che il danno è già fatto, vuole dire che noi abbiamo già fallito. Purtroppo in questo disegno di legge c'è un elemento di repressione che è quello del affidamento in comunità del ragazzo. Penso che non sia il metodo giusto, penso che prima di arrivare a parlare in estrema razio di affidamento in comunità, perché poi sappiamo che nelle pieghe della legge diventa anche difficile stabilire le regole, il confine che a volte è molto sottile. Allora dico, prima di arrivare a pensare all'ipotesi repressiva, proviamo a tentarle tutte investendo nella prevenzione. La prevenzione si fa con l'informazione e con la formazione. credo che il professor Bernardo sia d'accordo su questo, io vi voglio ringraziare entrambi con l'augurio che questi nodi politici vengano al più presto sciolti, perché se su tante cose poco li tolleriamo, io credo che su questi veramente non li vogliamo tollerare. Senatrice Rongiuli, grazie davvero, grazie anche al professor Bernardo. Vi facciamo vedere ancora una volta lo spot di Mediaset, lo vedrete molto in questi giorni su tutte le nostre reti. Grazie davvero e questo fine settimana, ripeto, sono tante le iniziative che ci devono ricordare che questo problema c'è e che va affrontato tutti insieme. Il 59% delle vittime di cyberbullismo ha pensato a suicidio. Le tue parole possono avere conseguenze irreparabili. Pensa prima di scrivere.